Amore, come ne vedevo? Tu si rompi i donna. Ma mi rompi i donna? Cammino, ma tu non vuoi? No, Cammino, è chiamato a nudo, capisci? Hai capito ora? Tu, Cammino, hai cercato a nudo e mi hai chiamato a nudo, capisci? Tu hai parlato solo con me, sei maleducato. Ma chi sta a parlare di materiale esplosivo? Mazzi, armi e munizione? Che porco tu! Ma io gli scanno i figli russi prima o poi. I figli russi muorono a mano mia, lo dico io.